Cercheremo di riavvicinare gli studenti ad una esperienza di costruzione della cantieristica navale che è poi una tradizione fortissima ovviamente del territorio, una tradizione che va salvaguardata, va rafforzata, ma perché questo possa venire ha bisogno sempre di linfa nuova. In passo la parola ovviamente al padrone di casa, al sindaco, e lo ringrazio ancora per l'ospitalità in questa sala bellissima.